Un Consiglio Comunale annoiato, poco attento, disertato anche dal Sindaco Pierluigi Biondi assente per impegni istituzionali, che fa il paio con quello rimandato la settimana scorsa e per l'ennesima volta per mancanza di numero legale. Consiglieri tenuti svegli soltanto da proteste cittadine, ma attraversato nel silenzio generale da un nuovo elemento che va ad aggravare la già seria crisi di maggioranza, la mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale in quota Forza Italia, Roberto Tinari. Grandi manovre lontane dai riflettori che vedono impegnate maggioranze e opposizioni, anche se non emerge ancora nessun atto concreto e le smentite puntano a cercare di mantenere il fragile equilibrio politico. L'eventuale sfiducia a Tinari, una possibilità reale come viene fatto notare in Consiglio Comunale per la quale ci vorrebbe l'accordo e la sottoscrizione di due quinti del Consiglio, dunque di 12 consiglieri nella composizione attuale, sfiducia, dicevamo, che farebbe gola anche ad alcune parti della maggioranza. Ad esempio al gruppo consigliare dei cosiddetti ribelli, ora insieme per l'Aquila, che tuttavia smentiscono manovre sotto banco e anzi riconfermano la fiducia per Tinari. Ma assolutamente nulla, ad oggi non c'è alcuna mozione di sfiducia, quindi non mi sento di poter fare grandi commenti al riguardo, se non dire che all'epoca io ho votato Roberto Tinari presidente del Consiglio Comunale e oggi lo riconfermerei, ma comunque in questo momento non c'è niente di tutto ciò, quindi non vedo perché bisogna fare commenti riguardo a qualcosa che ancora non si concretizza. Nessun contatto quindi dagli opposizioni? Assolutamente no, non con il sottoscritto, non con il gruppo consigliare di cui faccio parte, quindi almeno da parte nostra non c'è alcuna volontà di andare a sfiduciare una persona che comunque si è dimostrata equilibrata e capace di gestire il Consiglio Comunale come ha fatto in questo anno e mezzo di consigliatura. Maggioranze opposizioni smentiscono dunque di aver avuto contatti trasversali per lavorare a una mozione di sfiducia, ma gli elementi per chiedere un passo indietro del Presidente del Consiglio Comunale ci sarebbero tutti, secondo il capogruppo del Partito Democratico Stefano Palumbo. Ci sono stati tanti esempi di non rispetto del regolamento comunale, personalmente sono ancora in attesa da tre mesi della convocazione di un Consiglio Comunale che per norma di regolamento andrebbe convocato entro 20 giorni dalla richiesta. Non c'è modo, vengono portati in discussioni ordini del giorno, interrogazioni dopo tre, quattro, cinque mesi. Veramente è così, è difficile anche per noi poter esercitare il ruolo d'opposizione perché è un modo di silenziarci. Oltre alla chiusura del Consiglio Comunale per tutto il periodo della campagna elettorale? Ah certo, io ho provato e l'ho fatto pubblicamente a denunciare questa cosa.